Adesso ci torna un amico che abbiamo acquisito un po' nell'ultimo periodo, stiamo parlando di Marco Tontodonati. Marco Tontodonati, lo diciamo sempre, noi siamo abituati a vederlo parlare solo di calcio, invece qui a Di Pomeriggio ha una veste diversa, così è proprio il mattatore di questo suo vlog. Il vlog di Marco Tontodonati. Nuovo appuntamento con il mio vlog. Nasce nel 1990 e cresciuto in Abruzzo per 33 anni, con qualche esperienza estera, un anno in Spagna per lavorare ad una serie tv crime delle isole Baleari. E' tornato per il covid, poi è diventato nato e cresciuto in Abruzzo, anche sui social, con un susseguirsi di collaborazioni tra personaggi famosi e meno famosi. Tanti video virali. Oggi sono in 136 mila, i più seguiti su Instagram addirittura. E questo lo ha spesso portato a lavorare anche per realtà televisive e radio. Oltre social è un artista e disegna da quando è piccolo, ma è rimasto piccolo. Alessandro la froscia! Ah, benissimo, parlavi di me, giusto? Ben ritrovato Alessandro. Grazie, grazie Marco. E' davvero un piacere rivederti, perché noi non ci vediamo dall'ultima trasmissione che abbiamo fatto insieme su Rete 8 a Diretta Calcio. E' anche l'unica che abbiamo fatto insieme. Non cominciare a dire questo, perché siamo stati insieme un anno. E' vero, è vero. E poi io ti ho sempre chiamato con il nome giusto. Sì, Giovanni, Marco, Matteo. Il Vangelo, praticamente. Ma perché dimentichi che io ho una certa età? Però, adesso, questa è tutta un'altra storia. Come cantavano gli Squallor, noto gruppo, ma che voi... Io conosco bene, perché a differenza di tu, io sono informato su... Ma sei giovane, come fai a conoscere gli Squallor? Come non li conosco? Eh beh, storici, che c'era una canzone fantastica che diceva proprio... Però questa è tutta un'altra storia. Ma torniamo a te, insomma, abbiamo parlato... Proviamo a farne una serie questa volta. Vai. Come è iniziato? Come è nata questa passione? Intanto per il disegno, perché per me tu sei bravissimo a disegnare. Sei anche bravissimo a fare tutte le altre cose. Però ti ho visto all'opera, quindi live. E sei davvero bravo. Ti ringrazio. Adesso mi imposto un po' con una voce calda come te. Io praticamente disegno... A proposito, salutiamo gli amici di Retiotto che ci seguono anche su Di Pomeriggio. Siamo in radio, ma siamo anche in televisione. Alcuno si ricorderà di me, due anni fa però. Praticamente io disegno da quando sono piccolo. È una cosa che non ha una data, non ha un inizio, che ti potrei dire. Ma mi ricordo... La cosa più antica che ricordo è che disegnavo su dei pezzettini, Looney Tunes, cose. E da lì poi la passione andava avanti. Ho fatto... Disegnavo sui muri senza che i miei volessero, sai? Tipo quando sei piccolo. Poi ho deciso di portarla avanti, piano piano ho visto che me la cavavo abbastanza bene. Insomma, adesso a parte disegno abbastanza bene. No, è bravissimo. Ho fatto le scuole d'arte e poi crescendo ho preso anche l'Accademia di Belle Arti che mi ha spinto oltre al disegno anche verso altre arti, quindi il cinema, la fotografia. E quindi ecco, mi ritrovo oggi a lavorare con un po' un mix di tutte queste conoscenze e qualcuno direbbe, vabbè, insomma, se fa tutto e non se fa niente. Potrebbe essere... Io non l'ho detto. Io non l'ho detto. Anzi, ci prendiamo anche... Sono due correnti di pensiero diverso. C'è chi dice di specializzarsi su una cosa? Io preferisco essere un po' un tutt'arte, quindi disegno, faccio video, ci metto la faccia, doppio, e così ti ho anche introdotto... Il prossimo argomento. Intanto ci ascoltiamo un po' di musica. Grazie. Ed eccoci rientrati. Tra l'altro salutiamo anche Davor e Davide qui. D&D. D&D. Cos'è D&D? D&D. Vabbè, tante cose. Tante cose. Tante cose. Tante cose. È un gioco, un gioco da tavolo, insomma. Ma io ho 60 anni, ma secondo te posso sapere cos'è D&D? No, credo di no, che non sai nemmeno come si chiama la mia pagina. No, 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 no. Se vuoi introdurla. Nato e cresciuto in Abruzzo. Esatto. Hai visto? Esatto. Hai studiato, grande. Però prima torniamo un po' al passato, no? La tua esperienza nelle isole Baleari, ma cosa hai combinato lì? Eh, praticamente come ho introdotto prima, io avendo studiato diverse arti, tra quale il cinema, un po' più autodidatta che per scuola, però insomma la mia passione si era sparsa per i corridoi e quindi l'Accademia ha pensato di inviarmi a fare un placement alle isole Baleari, che sarebbero quei lavori che fai subito dopo la laurea. Quindi io mi laureo cinque anni all'Accademia di Balearti e poi vado a Palma de Mallorca. Ed è stata ovviamente una delle esperienze più belle. Quando ti hanno dato questa destinazione tu avrai detto no, 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 voglio andare... Preferirei la Germania. Non so, Istanbul. Invece mi sono ritrovato lì e però non è andata male, quindi l'isola è veramente bella, non c'è bisogno che ve lo dica io, tra l'altro adesso è andata anche di moda per andarci in vacanza e c'è tutto, è il comfort di una grande città in una piccola isola. Io lì facevo, lavoravo in una serie tv per una serie tv delle isole Baleari appunto, perché si vedeva soltanto sulle tre isole. La produzione era spagnola, italiana? Era spagnola, si, si, era spagnola, si chiamava Ibetres, la tv, e la serie tv si chiamava Trufoc, che vuol dire tipo fuoco incrociato, che non era nemmeno castigliano, quindi lo spagnolo quello che sappiamo noi, ma era in catalano, che sarebbe la lingua che si parla a Barcellona e anche su queste isole. I dissociati. Eh, diciamo, infatti c'era questa battaglia, vabbè adesso non ci divaghiamo. E io lavoravo per loro come aiuto produzione, quindi facevo un po' di tutto, un po' per bravura, un po' per fortuna, avevo con me la mia macchinetta, facevo delle riprese, la jeffa, che sarebbe il capo, no? La cosa? Si dice, sarebbe capo al femminile, la jeffa. Ma come si dice? Capo si dice jeffe, però in femminile, loro c'hanno… Intanto hai sputacchiato sul microfono. Hanno una distinzione, hanno una distinzione maschio. Si chiamerà anche così, ma non è… Giorno in pretura. Non va, non va benissimo. Cerco di chiudere, se no arriviamo a 79 minuti di intervista. La jeffa, al femminile la capa, mi disse fammi un po' vedere che stai a fare, gli immagini gli piacquero e mi chiede modo di fare anche il backstage di questa serie. Quindi c'è una puntata su YouTube, che poi chiaramente è andata anche in onda, che è l'ultima dopo, dopo l'ultima, no? Dove si vede in retroscena, quindi la gente come lavorava e tutte le cose fighe del mondo del cinema dietro le quinte. Ed è possibile guardarla questa cosa? È possibile guardarla su YouTube, cercando sul mio profilo Alessandro Lafroscia, nella mia playlist c'è il collegamento alla puntata che oramai, comunque sono passati cinque anni, perché era il 2018-19. Bene, bene, noi ci colleghiamo invece con il regista… Alessandro Lafroscia. No, con Alessandro. Adesso ci colleghiamo con Luca Ricci, che è il nostro regista, ma anche con l'aiuto di Davide e Davide, o David, Davide o Davide, è uguale, è uguale. Ed eccoci, rientrati sempre con Alessandro Lafroscia, ma vedi che riesco a ricordare il tuo nome? Farsesco, perché ho anche… Ma mi vuole una cosa, scusami. Ma sai cosa, che in televisione non ho… Come mi chiamo? No, no, ridammi tutto, help me, help me. Ok. Scherzi a parte, abbiamo parlato insomma della tua esperienza nelle Baleari, poi sei tornato purtroppo, purtroppo nel senso, per noi sei tornato, purtroppo, purtroppo per il Covid. Comunque è bello scherzarci ora. Sì, altrimenti oggi non avresti avuto nessuno da intervistare se non fossi tornato. Esattamente, sei tornato e cos'è successo? Eh, sono tornato un po' prima del Covid, nel senso che ero tornato per una pausa, poi è scoppiato il Covid e non sono potuto tornare lì. Quindi da lì poi per gioco inizia questo progetto che si chiama Nato e cresciuto in Abruzzo, che però è una storia lunghissima dietro che non sto a spiegare qui. Entro in questa pagina. Sintesi, sintesi. Eh, sintesi, io lavoravo per un'altra pagina che mi aveva assunto, però c'erano degli screzzi interni perché io facevo tutto, però i meriti volevano gli altri. Allora dico, sai che andatevi là. Conoscevo Andrea, che saluto, di Nato e cresciuto in Abruzzo, che però all'epoca lui è un giovane, molto più giovane di me, fa tutt'altro nella vita, studia agronomo, quindi non era proprio il suo lavoro il mondo dell'arte. C'eravamo sentiti per fare una collaborazione, al che gli dissi guarda nessuna collaborazione, vengo direttamente al 50 e 50. Lo so che la proposta è forte, perché non tutti avrebbero accettato, lui è stato lungimirante, è stato bravo, inizia questa collaborazione e io metto il mio, tra virgolette, sapere, le mie arti a disposizione della pagina e da lì la cosa diventa sempre più grande, una collaborazione con un personaggio che può essere il senatore Razzi, come può essere oggi la Lucarelli a Milano e quindi tra una collaborazione e l'altra, tra anche una collaborazione con più regionali, quindi saluto anche Marino, il pretuziano. Il famoso pretuziano che io adoro, adoro, adoro. Esatto, grazie. Ma anche il maestro Germano, che in modo modo voglia andare a Redotto, vabbè, da una cosa tira l'altra, la pagina cresce di più e oggi siamo i più seguiti su Instagram. Ecco, spiegami, anzi no, facciamo una cosa, intanto ci ascoltiamo un po' di musica, poi ci spieghi questa storia dei più seguiti, perché questa è una parola grossa. È grossa, è un po' troppo. È grossa, sì sì. I più seguiti. Eh lo so, è un po' grosso. Da capire. Da spiegare bene. Musica. Siamo in radio, ma siamo anche in televisione, siamo dappertutto, come qualcun altro mi viene in mente, non essere barstamo. Germano, Lucio. Ecco, va bene, Germano va bene, l'amico Germano va benissimo. Insomma, seguitissimi su Instagram, 135.000, come si fa a raggiungere questo numero che è davvero elevato, è grande? Potrei risponderti seriamente o meno seriamente? Io preferisco quella serie. Quella serie, allora, innanzitutto specifico che sono i più seguiti su Instagram, perché c'è un'altra pagina che si chiama Maiellando, che però non ha lo stesso stile nostro, loro si occupano di… Aspetta, allora, quando mi parli di più seguiti di… A livello abruzzese, chiaramente, chiaramente, scontato, se no ci sta Cristiano Ronaldo che c'ha 300 milioni, quando ci sono 500. Quindi a livello abruzzese è davvero la pagina più seguita. Su Instagram, c'è un'altra che si chiama Maiellando, però loro fanno un servizio più di escursioni, è quasi più una pagina di informazioni, lavoro, noi invece siamo la parte… Documentaristico, direi. Sì, sì, noi siamo la parte più ironica del web, quindi tra le pagine o comunque i profili ironici, quindi i vari, io, Abruzzese Polisete, Pretuziano, non so che altri… I soggettoni, insomma, i soggettoni abruzzesi su questa pagina. E ne approfitto appunto, dato che l'ho citato, per dire che l'Abruzzese Polisete è il più seguito su Facebook, con una differenza che lui nasce da 10 anni a questa parte e fa roba di poesia, scrive, lui è un ricercatore numero uno in quello che fa e per questo non c'è concorrenza, sono molto contento di essere anche quasi un vicino, perché per lui è di Martinsicuro, perché io faccio lì, posso dire, le cazzate praticamente. Ma sì, ormai le parolacce sono sdoganate, sono in radio dove? Sdoganate soprattutto in radio. Quindi noi facevamo le cazzate, in particolare io che ci metto la faccia e quindi ecco, noi siamo cresciuti parallelamente con un altro tipo di follower, che poi spesso sono gli stessi, perché non preludo il fatto che una persona che legge cose belle, intelligenti, non possa vedere le mie cazzate, che poi per chiudere non è che non sono intelligente, che semplicemente io le racconto in un altro modo, tipo io vado in Kenya e faccio giocare i bambini a calcetto. Allora aspetta perché questa è una cosa seria, ne parliamo subito dopo questo brano musicale, così balliamo un pochino con Davore e David, guarda, guarda lì come si muovono, guarda, guarda. Alessandro, parliamo di questa esperienza in Kenya, tu sei un simpaticone, insomma sei un casinaro, però in Kenya mi è sembrato di capire che hai fatto qualcosa di estremamente bello. Sì, grazie. Dicevo che nel senso, facciamo le stupidaggi, ma in senso comunque ironico della parola, perché cerco di portare avanti anche progetti seri, come ti avevo accennato del Kenya, anche un murales che realizzerò a breve, anche uno spettacolo, quindi non è soltanto quelle stupidaggini che vedi sui social per farti una risata, quello è il pane quotidiano per tenere viva la pagina, ma poi quando posso mi dedico a progetti tipo appunto il Kenya. Il Kenya nasce come una vacanza sostanzialmente, però conoscendo Luna, che saluto se ci vedrà, Luna l'amica di Gianni Togni, ebbè ho fatto, visto la mia età, ce l'è berrima, Luna è una ragazza di Pescara che ha un'associazione lì che si chiama For Kenya, lei vive divisa in due tra Barcellona e Kenya, ovvero che appena può va lì per dare una mano a questi bambini, è bravo appunto che nel caso te la faccio conoscere, anche se lei, ripeto, vive a Barcellona e quando può va in Kenya. Eh, potremmo organizzare una videocall o qualcosa? Sì, 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 assolutamente, super disponibile, è stata anche da Paola, è stata ospite poco fa, quindi se la riesce a organizzare lei volentieri e io spingo ancora più volentieri il progetto che farei, che è quello di aiutare i poveri bambini nei villaggi del Kenya. E tu? Io ho contribuito molto, tra virgolette, perché quello che fanno loro non è nulla in confronto, cioè quello che ho fatto io non è nulla in confronto a quello che fanno loro, sono andato nel villaggio che hanno costruito lì vicino allo Zavo Est, che sarebbe un parco nazionale dove si fanno i safari così, dove praticamente non c'è nulla, c'è proprio la landa desolata come tra immagini film e poi ci stanno queste loro strutture e ho organizzato una partitella a calcetto, perché questi bambini, come potete immaginare, non hanno niente, non hanno nemmeno l'acqua, non in abbondanza, e io mi sono presentato con una valigia piena di divise da calcio, del Giulianova Calcio e del Teramo Calcio che ho contattato prima di partire e mi hanno detto chiaramente sì, sì, facciamo, facciamo. E quindi, siccome poco prima si sono presi ammazzate, Giulianova e Teramo. Sì, è vero. Lampatini, allora io... Un po' di confusione all'esterno dello stadio. Mi si è accesa la lampatina. Diciamo così, diciamo così. Un po' di confusione. Mi si è accesa la lampatina e ho detto, mo li chiamo, veniamo se riesco a fare una specie di messaggio di pace, dato comunque che volevo far comunque giocare questi bambini. E niente, ho portato i palloni, ho portato le divise, ho portato le penne, anche per farli poi scrivere, anche la parte, vedi, seria. E quindi una giornata l'ho dedicata a questo progetto con i bambini che sono rimasti molto contenti. Potete vedere il video trailer sulla mia pagina, è fissato in alto la prima cosa che vedete, oppure l'approfondimento di comunque otto minuti, niente di che, te lo puoi vedere su YouTube, nato e cresciuto in Abruzzo. C'è questo approfondimento. Benissimo. Bravo Alessandro. È inutile che poi vi sto a dire altro, vedendolo spieghiamo tutto molto bene lì, come vivono, di cosa vivono, di cosa hanno bisogno e del progetto di Luna che comunque gli aiuta veramente tantissimo con donazioni, eccetera. Io ti ringrazio Alessandro perché è stata una chiacchierata divertente, ma abbiamo scoperto anche delle cose diciamo serie che hai fatto, perché poi dietro a delle personalità così simpatiche e ironiche c'è sempre una… È più difficile far ridere che far piangere. Esatto, esatto, esatto. Grazie Ale, grazie naturalmente alla regia di Luca Ricci, ringraziamo anche Davore e David di A&D e rimanete sempre. E la fattura la faccio a te o a loro della radio? Sempre a me, devi farla a me e salutiamo gli amici di Rete8 che sono collegati con la nostra radio, con DJ International di pomeriggio. Il vlog di Marco Tontodonato.